bentornato gutier bentornata terminiamo questa decade con la spiegazione di un'altra sezione sulla falsa rica della lezione precedente per grandi linee mantenendomi sempre sul superficiale in quanto questa sezione è un po avanzata nei controlli settaggi del sistema operativo parliamo di gestione computer è una console chiamata microsoft management console appunto che si configura come una finestra per impostazioni settaggi in cui puoi configurare alcuni parametri di windows per l'impiego del computer su cui è installato in pratica ti servirà per gestire reti il computer stesso servizi ed altri componenti del sistema è composta da una vasta gamma di possibili impostazioni settaggi per gli strumenti di amministrazione la cui gestione necessita di conoscenze un po avanzate una prima sgrossata la visionata nella lezione 127 e il rispettivo video tutorial in particolar modo quando ti ho descritto alcune funzionalità che ritrovi appunto in questa console se ancora non l'hai fatto quindi ti stimolo a visionarla prima di proseguire in questa lezione altrimenti prosegui pure all'avvio della console ti troverai molte azioni da poter eseguire alcune sono abbastanza intuitive e semplici altre però richiedono competenze importanti come detto qualche secondo fa tralasciamo queste ultime fuori target del nostro percorso individuando invece quelle che potranno esserci utili nella gestione del sistema operativo ed hardware a nostro livello come se avvia un paio di possibilità la prima più semplice di tutte clicca con il tasto destro del mouse sul pulsante start e troverai dalla lista che si presenta la scritta gestione computer cliccaci sopra altra possibilità avviando il comando esegui scrivendo com mgmt.msc e poi invio sigla che indica appunto computer management si aprirà una finestra molto complessa suddivisa in tre colonne quella di sinistra presenta una struttura d'albero per individuare le operazioni da controllare e poter gestire operazioni che una volta selezionate potrai visionare nella colonna centrale e lo stato di quella funzione ed infine nella colonna di destra potrai eseguire alcune azioni relative appunto alla sezione esplorata. I rami padre delle operazioni eseguibili e visionabili in questa sezione sono utilità di sistema archiviazione e servizi applicazioni da essi poi una struttura d'albero produrrà altre visioni in ognuna ci sono operazioni che potrebbero tornarti utili nella sezione utilità di sistema potrai visionare utilità di pianificazione visualizzatore eventi cartelle condivise utenti e gruppi locali prestazioni e gestioni dispositivi da attivazione invece potrai interagire con la funzione gestione disco sezioni qui rappresentati in questo screenshot ed infine servizi e applicazioni ti presenta un paio di sottosezioni ma la sezione servizi è quella più appetibile a mio modo di vedere proprio perché visionerai i servizi attivi o meno del sistema operativo. Procediamo comunque con ordine. La prima utilità di sistema che fornisce la sezione utilità di pianificazione questa sottosezione è necessaria per pianificare le attività del computer per l'esecuzione automatica come esempio in pratica se tu impieghi un programma specifico in un determinato giorno potrai impostare il suo avvio automaticamente anche in maniera quotidiana o ancora per far comparire un avviso o un invio di un'email tanto per chiedirci un po' le idee. Confronta a riguardo il video tutorial della lezione 127 per visionare come impostare appunto tale azione. Seconda sottosezione visualizzatore eventi. Da questa sezione puoi prendere visione di un registro degli eventi in cui trovi messaggi di monitoraggio oppure soluzione di problemi che si sono verificati all'interno del sistema operativo oppure all'interno di altri programmi. Utile per una diagnosi quindi. Avviata la sezione visionerai la lista degli eventi suddivise in categorie. Cliccando su una categoria potrai visionare la lunga lista di eventi che si sono verificati. Individuando un evento specifico quello che ti ha mandato a visionare questa sezione e cliccandoci appunto sopra potrai ottenere informazioni utili dalla descrizione sottostante che potrebbero essere fondamentali per la soluzione del problema. Altra sottosezione cartelle condivise. Qui potrai visionare quali cartelle oppure file più o meno privati stai condividendo nella rete. Quali sessioni sono attive, i file aperti da te o da altri utenti tra le cartelle che avranno condiviso. Un modo per amministrare e gestire la sicurezza del pc e della tua rete sbirciando un pochino quella. Sezione utenti e gruppi locali sarà utile nel caso tu amministri una rete. È il modo per poter gestire i gruppi degli utenti collegati al pc e all'interno della rete, gli account e configurare i loro permessi e quindi le loro autorizzazioni. Giusto per definire le libertà all'impiego di programmi ed impostazioni del computer specifico. Prestazioni è lo strumento di monitoraggio delle risorse del tuo computer. La sezione più interessante per me all'interno di questa sottosezione è Performance Monitor. Esamina l'effetto prodotto dall'esecuzione dei programmi sulle prestazioni del computer sia in tempo reale che raccogliendo i dati di registro per una eventuale analisi successiva. Ti permette di eseguire la diagnosi dei problemi di prestazioni del sistema e raccogliere i dati relativi alle prestazioni dell'hardware del pc. Ancora potrai visualizzare informazioni dettagliate in tempo reale sulle risorse come cpu, disco rigido, rete e memoria e sulle risorse del sistema utilizzati dal sistema operativo, servizi e applicazioni in esecuzioni. Qui uno screenshot rappresentativo delle prestazioni di alcuni parametri che saranno visionabili tramite un grafico. È possibile anche da questa sottosezione interrompere i processi, avviare o arrestare i servizi, identificare i processi e bloccare anche i file e molte altre opzioni. Anche in questo caso il videotutorial della lezione 127 può essere un utile supporto per visionare la funzionalità. Gestione dispositivi, già avrai compreso il tutto dal nome, ti permette di gestire la funzionalità, driver e alcune impostazioni dei dispositivi hardware collegati al tuo pc. Qui ti rimanendo direttamente alla consultazione di un'altra lezione, specificamente la 111 e la visione del suo videotutorial perché trattata direttamente. Il secondo ramo è archiviazione, nella quale tu potrai selezionare gestione disco. È la sezione di archiviazione. In pratica permette la gestione di tutte le periferiche di memoria collegate al tuo pc. Un po' di attenzione in questa sezione è importante in quanto potrai formattare le periferiche e perdere apparentemente i tuoi dati se esegui operazioni senza attenzione. Inoltre potrai esplorare o cambiare lettere alle partizioni, crearne altre e ridimensionare lo spazio di quelle già esistenti. In parte è già stata trattata nella lezione 126 e tutorial. Ultimo ramo, servizi e applicazioni. Diciamo che questa è la sezione più popolata in quanto potrai visionare e gestire tutta la schiera dei servizi presenti nel sistema operativo. Puoi anche arrestare, avviare e configurare i servizi per migliorare le prestazioni del sistema operativo, per renderlo più performante, per ottimizzarlo, evitando di impiegare i processi in attività non utili per il tuo lavoro. I servizi, ti ricordo, sono programmi o processi che vengono eseguiti di nascosto in background per fornire supporto ad dati programmi e frequentemente molti di essi non sono utili al normale impiego del sistema operativo. Avviando la sezione si presenta una lista lunghissima di nomi e sigle nella prima colonna. La seconda, invece, ti dà una descrizione del rispettivo servizio per avere un'idea di ciò che esegue quello specifico servizio. La terza colonna evidenzia lo stato del servizio, se avviato o no. Nella colonna tipo di avvio è evidenziato se quel dato servizio è attivato automaticamente o per l'avvio è necessario un intervento dell'utente, quindi da te. Nell'ultima colonna infine visionerai se il servizio è relativo alla rete o è locale, quindi del tuo singolo pc. Cliccando due volte rapidamente sul servizio si apre una finestra con diverse caselle nelle quali potrai visionare oppure configurare il servizio, tra cui appunto l'avvio, l'arresto, impostare il tipo di avvio, sospenderlo o riavviarlo, individuare il percorso del file eseguibile ed altre operazioni. Come per la lezione precedente, anche in questa sezione è bene prendere coscienza di tutto quello che viene offerto in modo che potrai iniziare ad impiegarla per l'uso e risolvere alcuni dei problemi che potresti incontrare man mano che le tue competenze aumenteranno. Quindi non ti spaventare dell'enorme lista e soprattutto se non dovessi comprendere alcuna descrizione. Allora Goodler, eccoci alla sezione pratica, andiamo a vedere come avviare gestione computer. Clicca con il pulsante destro del mouse sul pulsante start di Windows dal menu che si presenta individua la scritta gestione computer. Alternativa è avviare il comando esegui e scrivere la stringa compmanagement.msc. Cliccando su ok, dopo qualche secondo si aprirà la finestra e potrai massimizzare ed iniziare ad individuarla. In alto trovi la barra dei menu che ti permette di visionare alcune opzioni, ma la parte operativa è questa. Nella colonna di sinistra al centro trovi la rappresentazione della sezione che andrai a selezionare e a destra la colonna relativa alle azioni da eseguire della sezione selezionata. I tre rami da cui si srotolano tutte le opzioni sono utilità di sistema, archiviazione e servizi e applicazioni. Partendo dalla prima sezione c'è utilità di pianificazione. Come puoi leggere da quanto scritto in questa sezione, ti dà la possibilità di pianificare un'operazione da eseguire. Una di quelle che magari esegui con una certa frequenza, ma ti rimando alla lezione dedicata per verificare come si esegue questa impostazione. Nella sottosezione visualizzatore eventi con un tempo variabile avrai in visione la lista degli eventi occorsi. Qui hai un rapporto che rappresenta alcuni eventi che si sono verificati nel sistema operativo nell'ultima ora, nelle 24 ore oppure nell'ultima settimana. Potrai decidere di selezionare e ottenere informazioni più utili. Adesso noterai ovviamente tutte informazioni che sono oscure ma che con il tempo, iniziando a indagare, potrai avere informazioni utili per risolvere eventuali problemi. Nella sezione di testa trovi alcuni pulsanti con cui puoi far eseguire determinate azioni relative a ciò che selezionerai. In particolar modo ti voglio evidenziare una guida che ti potrà tornare utile in base alla sezione che avrai selezionato per avere maggiori informazioni sulle spiegazioni di ciò che va ad eseguire la singola sezione. Nella sezione centrale, in basso, c'è un'altra finestra che ti dà indicazioni se un determinato programma è attivo o no. Chiacciando rapidamente sul singolo programma si aprirà una nuova finestra che ti permetterà di ottenere ulteriori informazioni sugli eventi. Ad esempio la suite antivirus che ho installato su questo computer ti permette di evidenziare una lista di informazioni qualora si fosse verificato un qualsiasi evento e qui hai una descrizione di ciò che verosimilmente ha causato quell'evento. Informazioni che potrebbero tornarti utili. Torniamo alla sezione precedente e andiamo a individuare la sottosezione cartelle condivise. Qui potrai individuare se ci sono cartelle condivise e file condivisi dal tuo computer verso l'esterno oppure dalla rete in modo da poter gestire anche la sicurezza qualora tu fossi amministratore. Utenti e gruppi locali ti permette di individuare quali utenti sono impostati per l'utilizzo del computer e agire in loro conseguenza tramite il tasto destro oppure tramite la sezione azioni puoi interagire con questa sezione. La sezione prestazioni ti permette di evidenziare le prestazioni del computer. Qui hai una descrizione di ciò che esegue questa sottosezione ma quella forse più piacevole è performance monitor che ti permette di evidenziare tramite un grafico le prestazioni del tuo computer. In questa sezione puoi cliccare sul pulsante più aggiungi. Dalla lista che si presenta nella colonna puoi scegliere cosa andare a visionare. Ad esempio scegliamo le funzionalità del processore. Puoi selezionarle singolarmente oppure estendendo a più sezioni i parametri da visionare. Cliccando su aggiungi si evidenzia in questa sezione puoi fare anche altre cose in base al parametro e all'hardware che vuoi monitorare come può essere quello della memoria. Aggiungendo otterrai un'informazione grafica molto imponente potrai decidere di selezionare o deselezionare quale i parametri che devono essere monitorati tramite questo grafico. Puoi scegliere anche la visualizzazione del grafico da proprietà, il tipo di diagramma potrai aggiungere delle griglie verticali ed orizzontali per una rappresentazione se ti piace di più migliore. Il tipo di visualizzazione se allinea barra histogramma oppure rapporto numerico che forse può essere quello più chiaro che ti dà indicazioni numeriche di condizioni utili alla diagnostica, al controllo come ad esempio in questo caso i megabyte disponibili della memoria come puoi vedere da questa lunghissima lista e quindi ti puoi sbizzarrire per individuare ciò che più ti piace. La sezione gestione dispositivi è quella che già abbiamo visto nella lezione dedicata alla gestione dei dispositivi che ti permette di controllare che tutto funzioni correttamente ed eventualmente aggiornare i driver come ormai credo già sai fare. La sezione gestione disco nella sottosezione architazioni ti permette di gestire tutte le periferiche di memoria collegate al computer. Fai particolare attenzione perché in questa sezione tu puoi interagendo con le periferiche collegate anche in maniera distruttiva perché potrai formattare o eliminare il volume e quindi perdere apparentemente i dati che sono memorizzati in essa. Come puoi vedere dalla lista si presenta la semplice esplorazione dell'unità oppure un cambio di funzionalità della partizione se attiva o no, cambiare la lettera che rappresenta la singola unità, aumentare o ridurre il volume relativo a questa periferica. Ultima sottosezione relativa ai servizi applicazioni. Qui nella sezione servizi si srotola la lunga lista dei servizi che sono attivi funzionanti in background del sistema operativo cliccando sul singolo servizio hai una descrizione e lo stato dello stesso. La descrizione può tornarti utile per capire cosa esegue questo singolo servizio, il suo stato se in esecuzione, se è bloccato, il tipo di avvio, se è manuale oppure automatico ed infine se è un servizio locale o un servizio di rete. In questa sezione puoi decidere di interagire con il singolo servizio e decidere qualora tu fossi formato sufficientemente se quel servizio può essere utile o meno all'impiego del tuo sistema operativo, del tuo computer e quindi migliorare le prestazioni ottimizzandone l'utilizzo del processore non facendolo lavorare verso servizi che non ti sono utili. Terminiamo questa sezione e nella prossima lezione parleremo ancora della sezione relativa al menu presente sul pulsante start ma prima il repilogo e successivamente il quiz di verifica. Ora un forte saluto, ci appresso da Carlo e dalla prossima! Grazie a tutti!